E' un'altra parte di un'altra parte. Di un'imponente parete rocciosa di circa 400 metri cubi. A Banoa interviene in alcune aree della città. Quattro opere al via nei prossimi mesi dal centro storico alla borgata di Maristella. Presto tutte le verifiche sulla vasca di polmonazione di Piazza Sulis. Nel nostro telegiornale tutti gli appuntamenti sportivi del weekend. Per il calcio importanti scontri salvezza per Fertilia e Alghero. L'amatori rugby riposa, la Mercedes Basket nuovamente in campo a distanza di pochi giorni. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con il telegiornale di Alghero su Catalan TV. Come avete sentito dai nostri titoli apriamo parlando dei lavori per la messa in sicurezza delle falese di Capocaccia. Ieri spettacolare intervento con il distacco e la conseguente caduta in mare di una porzione di roccia di circa 400 metri cubi. Il termine tecnico utilizzato per simili operazioni è di sgaggio. Ieri il momento clou è più spettacolare dei lavori per la messa in sicurezza delle falese di Capocaccia. Il distacco di un'enorme porzione di parete rocciosa di circa 400 metri cubi e la conseguente caduta in mare. Immagini dal forte impatto, quelle che vi stiamo mostrando, ...uno degli interventi più importanti dei lavori iniziati lo scorso dicembre dall'impresa Euro Rock di Trento. L'opera prevede interventi di demolizione di massi in parete a picco sul mare con azioni su corda, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, demolendo volumi di rocce a pericolosi, decespugliando le pendici, immettendo iniezioni di resine in parete ed effettuando opere di ancoraggio della parete, utilizzando speciali tecniche di perforazione di chiodatura della roccia. L'opera di consolidamento delle falese di Capocaccia è incentrata su una delle aree a maggior frequentazione turistica della costa nord-ovest della Sardegna, in particolare per la presenza di alcune tra le più importanti grotte del bacino del Mediterraneo, tra cui la Grotta di Nettuno e la Grotta Verde. I lavori, finanziati con un milione di euro di fondi comunitari, dovrebbero concludersi a fine aprile. L'impresa si incaricherà inoltre di riqualificare completamente le scala del Cabirol, l'accesso da terra alle grotte di Nettuno realizzato alla fine degli anni 50. E ora parliamo di una riunione tecnica che si è svolta ieri a Sant'Anna con Abba Noa. Al via 4, distinte opere di stretualizzazione e telecontrollo, sostituzione di due tratti di condotte, ripristino dello scarico a mare, inoltre verifiche sulla vasca di Piazza Sulis. Sentiamo. Il Via Libere è arrivato in occasione del tavolo tecnico operativo svoltosi ieri mattina a Sant'Anna tra il sindaco Mario Bruno, gli assessori Cherchi e Salvatore, accompagnati dai dirigenti e dai tecnici comunali del settore, l'amministratore unico, il direttore generale di Abba Noa, Alessandro Ramazzotti e Sandro Murtas. Da una parte si interviene per rendere operativa la distretualizzazione in tutti e sette distretti in cui risulta frazionata la rete idrica urbana, con l'intento di ripristinare il funzionamento del telecontrollo e la sostituzione delle apparecchiature. Dall'altra, fanno sapere ancora dal Comune, partono nuovi e non più rinviabili interventi sulla rete fognaria. Prossimi all'avvio i lavori di sostituzione del tratto di condotta su Via Carlo Alberto nel Centro Storico, operazione propedeutica all'allaccio funzionale del complesso dell'Uqualte, a cui si aggiunge la sostituzione di un tratto di condotta a Maristella, per un investimento complessivo di circa 60.000 euro. Interventi che saranno realizzati tra aprile e maggio, a cui si somme il ripristino funzionale del primo tratto a mare e dello scarico di emergenza del Mariotti, con un investimento totale di circa 800.000 euro. Parallelamente si procederà, dalle prossime settimane, a eseguire dettagliate verifiche sullo stato delle opere realizzate nella vasca di polmonazione di Piazza Sulis, nel tentativo di salvare le attrezzature installate e programmare gli interventi necessari per l'avvio del pompaggio verso il sollevamento del Mariotti, impianto al centro di più specifiche valutazioni sul futuro funzionamento. Si tratta di opere inserite nel progetto Alghero, varato a dicembre tra Comune e Abanoa, che prevederà un nuovo step di opere già programmate di circa 1.400.000 euro per l'efficientamento gestionale delle reti, volto alla limitazione definitiva degli inconvenienti presentati in questi anni. Reconvocato per i prossimi 19, 24 e 25 marzo, il Consiglio Comunale è chiamato a discutere alcuni temi delicati, come la variante non sostanziale al regolamento relativo al piano generale di settore, relativo all'inquinamento elettromagnetico, e l'autorizzazione del programma per l'installazione di impianti di telefonia mobile proposti dalla Vodafone con contestuale concessione di porzione di immobili comunali, anche se il primo punto è un'interrogazione del Movimento 5 Stelle sulla situazione degli operai a servizio per il verde pubblico. Tre punti in programma, anche alcuni temi rimasti in sospeso dalle precedenti sedute del Consiglio e non ancora discursi in aula. Il presidente provinciale della Confartigianato di Sassari, Mario Piras, si chiede dove siano finite le risorse per la rotatoria nella strada dei Due Mari, già finanziata e i cui lavori sarebbero dovuti partire lo scorso anno. L'opera è rimasta nel libro dei sogni della provincia e non c'è più traccia delle risorse pubbliche. È chiara e netta la denuncia del presidente provinciale della Confartigianato che si chiede di chi sia la responsabilità e motivi per i quali la rotatoria non è ancora stata realizzata. Mario Piras ripercorre i vari passaggi dal dicembre 2010, quando la provincia approvò la delibera per finanziare l'opera, agli anni 2013 e 2014, quando lo stesso ente diede il via libera, prima al progetto definitivo per la rotatoria, quindi a quello esecutivo. Proprio nel giugno 2014, ricorda il presidente provinciale della Confartigianato, vennero aggiudicati i lavori con l'appalto fidato all'impresa LED da costruzioni di Santa Maria Coginas. Confartigianato, in calza Piras, ha sollecitato più volte, ha vigilato affinché l'opera venisse realizzata nei tempi giusti, ma tutto è rimasto al palo. La rotatoria sulla strada dei due mari, sottolinea, è estremamente necessaria per scongiurare pericoli di scontri e danni a veicoli e persone, per il continuo e crescente flusso di mezzi pesanti, che quotidianamente raggiungono la zona artigianale Ungias-Galantè e non solo. Ora la Confartigianato spera che arrivino risposte, soprattutto dalla provincia, commissariata però di recente dalla regione, così come gli altri enti storici della Sardegna. E ora spazio alla cultura, perché prosegue la programmazione del decennale dei lunedì con la poesia, la rassegna artistico-letteraria curata da Pierluigi Alvau, ormai appuntamento culturale fisso e apprezzato dei lunedì algheresi. La rassegna continua la propria programmazione, inaugurata lo scorso novembre per il decimo anno consecutivo. Ne abbiamo parlato proprio con lo stesso Alvau. Pierluigi Alvau, i lunedì con la poesia sono arrivati al decimo anno, un appuntamento importante delle lunedì algheresi, molto seguito, quindi per lei una soddisfazione. Beh sicuramente, perché quando dieci anni fa mi avventurai in questa iniziativa la sfida era duplice. Prima di tutto presentarsi in pubblico per leggere delle poesie era un'esperienza nuovissima qui a Del Ghero, ma un po' anche in tutta la Sardegna. E poi l'altra sfida era quella del giorno della settimana scelto, che era il lunedì, un giorno stranissimo per fare delle iniziative, per proporre soprattutto dei reading poetici. Io ironicamente dicevo all'epoca che l'unico concorrente che avevo era Biscardi con il processo del lunedì, però nel corso di questi dieci anni vedo con piacere che il lunedì è una giornata che viene utilizzata oggi comunemente per iniziative anche simili alla mia. Lunedì sarà 16 marzo, un altro appuntamento con questa manifestazione, che cosa propone? Sì, per il decennale io ho proposto, sto proponendo un purpurì degli autori proposti nel corso dei nove anni precedenti, quindi non ci saranno, quest'anno non ho fatto delle monografie, ma appunto ho accomunato diversi autori in una sola serata. Per lunedì prossimo, lunedì 16 marzo, ho in calendario Emily Dickinson, perché io ho sempre voluto dare spazio alla poesia al femminile. E poi ancora a Fernando Pessoa, una delle voci più autorevoli del Novecento europeo. Jacques Prevert, che indubbiamente ha segnato anche un'epoca, soprattutto nel post-68, accompagnato i giovani non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista dell'amore. Per concludere, Dino Campana, un autore italiano un po' trascurato, del quale leggerò non solo poesie, ma anche dei testi, che hanno influenzato moltissimo la letteratura italiana dal 1935 in poi. E sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale numero 18 del 6 marzo 2015, è stato pubblicato il bando di concorso per la missione all'87esimo corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per 216 allievi marescialli del contingente ordinario, 20 allievi marescialli del contingente di mare. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che abbiano la data di scadenza del termine, per la presentazione della domanda, età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26, siano in possesso del diploma di istruzioni di secondo grado che consenta le iscrizioni e corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007. Non essendo in possesso del citato diploma la data di scadenza per la presentazione della domanda, i candidati dovranno conseguirlo entro l'anno scolastico 2014-2015. La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area concorsi online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando con scadenza 7 aprile 2015. Ora ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Eccoci nuovamente in studio con la seconda parte del nostro notiziario. Domani, domenica 15 marzo, l'azienda agrituristica Samandra presenta Narami, un format culturale ispirato e dedicato alla scoperta della Sardegna. La prima tappa di questo viaggio è dedicata alla Barbagia. Narami rappresenta una mini expo dedicata a questo territorio immaginata per mostrarne le eccellenze. L'evento, organizzato con la Proloco Presidio Turistico Liena Galaveras, ospiterà mostre d'artigianato e prodotti tipici, degustazioni, una dimostrazione dell'antica lotta Sistrumpa, esibizioni, laboratori di lavorazione artigianale della pasta e della sfodello per la preparazione di preziosi cestini. Narami è un progetto culturale pensato per valorizzare la tradizione delle diverse aree della Sardegna, presentandole all'interno di una suggestiva cornice. E ora apriamo, come sempre, come ogni sabato, la nostra ampia pagina sportiva, iniziando dal calcio, perché nel campionato di eccellenza è in programma la dodicesima giornata di ritorno e le due algheresi saranno impegnate in due scontri salvezza molto importanti. L'obiettivo è riaprire i giochi e il discorso vale sia per Fertilia che Alghero. I gialloblu in particolare sperano ancora nella salvezza diretta da ottenere non solo grazie al vantaggio di oltre 10 punti sulla terz'ultima, ma magari portandosi fuori dalla zona play-out. Per farlo è necessaria una vittoria domani in casa al Mariotti contro il Valle d'Oria, che forte dei suoi 41 punti ha quasi raggiunto l'obiettivo. La sconfitta contro il Tortolì ha rimesso in discussione un po' tutto per la squadra allenata dalla vecchia Marcomini, che sulla sua strada troverà poi due avversari ostiche come Lanusei e Muravera. Sembra più alla portata il calendario del 1945 Alghero, che in due settimane affronterà due dirette concorrenti. Domani c'è la trasferta a Calangianus contro l'ex Fabio Carbonaro. Le due squadre sono divise da sette punti, ma i giallorossi, che dovranno fare a meno di Urgias, Niedu e Pinna per squalifica, sperano soprattutto di ridurre il distacco nei confronti del Cugini di Fertilia. Per farlo è importante tornare dalle due trasferte, quella di domani e la successiva, sul campo della Palma, con un buon bottino. E sempre per il calcio sarà un turno all'insegna di due derby, quello di domani, nel Girone H di seconda categoria. Per la ventiquattresima giornata il calendario propone infatti gli incontri tra Pietraia e Maristella e la Corte Olmedo. Nella prima partita le due formazioni algheresi sono distanziate da 11 punti, mentre la Pietraia è a quota 26. Il Maristella occupa la penultima posizione di classifica con 15 punti. Nel derby della Nurre invece l'Olmedo cercherà di strappare tre punti alla Corte, insidiando la prima posizione dell'Oeacus Sassari, ormai vicino con sole due lunghezze di vantaggio. La giornata propone inoltre la gara tra Treseliges e Tiesi. Passando alla terza categoria, Girone A, troviamo l'Audax che sarà impegnata in casa nel difficile impegno contro la prima della classe Monte Alma. La formazione bianco-verde è quinta con 25 punti dopo la bella vittoria esterna della scorsa settimana per 3-0 sul campo del Tissi. Ora passiamo al basket, in particolare al basket femminile. Dopo il derby perso contro la Virtus Cagliari giovedì, oggi la Mercedes scende nuovamente in campo per l'ultima giornata del Girone di andata della Pool retrocessione. Appuntamento alle 15.30 al Palacorbìa, dove la Mercedes se la vedrà con la vicecapolista del Girone, Civita Nova Marche. Gli algheresi, ancora a zero punti dopo cinque partite giocate, sperano di invertire la rotta contro una formazione non ancora sicura della salvezza. Un obiettivo diventato più complicato per gli algheresi, visti i recenti risultati, soprattutto le sconfitte negli scontri diretti contro Salerno e la Virtus. Per nutrire ancora speranze di salvezza servirà un gran Gironi di ritorno, soprattutto quando la Mercedes incontrerà le dirette concorrenti. Oggi intanto c'è la sfida con le marchigiane, che hanno perso la loro prima e unica partita proprio lo scorso fine settimana contro il Belize Roma. Il roster di Civita Nova è di tutto rispetto e può contare su due giocatrici importanti, come la bosniaca Delibasic e Manzini. Insomma un impegno tutt'altro che agevole per la Mercedes, che deve fare i conti con i soliti problemi fisici di alcuni suoi giocatrici. Da valutare in particolare le condizioni di Carolina Sanchez, scesa in campo giovedì nonostante i guai al ginocchio destro. E ora apriamo una piccola finestra sul rugby, ancora uno stop per i campionati. Torna infatti il 6 Nazioni, che vedrà impegnata la nostra nazionale in due importanti incontri con Francia e Galles. Pausa quindi anche per l'amatori rugby al Ghero, che dopo la bella vittoria in casa contro la prima della classe, Rugby Lecco, raggiunta ora dal Piara Biago in vetta, tornerà a giocare il prossimo 29 marzo, quando è prevista la trasferta in terra piemontese contro il Torino. Questa piccola notizia di rugby chiude anche l'edizione odierna del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana, ora spazio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci.